Annata record, quella appena conclusa, per la commercializzazione dell'arancia di ribera a denominazione di origine protetta. Nella campagna 2018-2019, l'ente di certificazione per la Sicilia ha appurato che sono state complessivamente commercializzate 10.000 tonnellate di arance di ribera ad hop, nelle tre varietà, navelina, brasiliano e Washington Nevel. È il record da quando l'arancia di ribera ad hop è in commercio, ovvero nell'annata agrumicola 2009-2010. Con una crescita rivelatasi costante, considerata la variabilità delle annate imposta dalle condizioni meteorologiche. La crescita dei livelli produttivi e di commercializzazione dell'arancia di ribera ad hop è significativa, dichiara il presidente del consorzio di tutela Giuseppe Pasciuta, in relazione ad un mercato e ad un pubblico che si avvicina sempre di più ad un prodotto di qualità certificata ed in modo sempre più consapevole. Le produzioni di qualità dell'arancia di ribera ad hop sono riconoscibili dal marchio comunitario ad hop in etichetta, come tra le più importanti eccellenze agroalimentari italiane e dal marchio di garanzia del consorzio di tutela Riberella. Non possiamo che ringraziare tutti i nostri produttori e confezionatori, le aziende di trasformazione e di confezionamento, ma soprattutto i consumatori che hanno scelto l'arancia di ribera ad hop, portando sulle loro tavole un pezzo di Sicilia e sostenendo l'economia del territorio, ha aggiunto Pasciuta. Il consorzio di tutela dell'arancia di ribera ad hop, con 292 aziende singole, 6 strutture associate iscritte nel sistema ad hop ed oltre 1000 ettari di superficie coltivata, rappresenta una importantissima realtà produttiva agricola in continua espansione. Il consorzio punta adesso a rafforzare le vendite nel territorio nazionale, ma soprattutto verso la crescita delle esportazioni in nuovi mercati esteri, anche con le produzioni biologiche e di vaniglia pirena. Un comparto in continua crescita, afferma il presidente Giuseppe Pasciuta, che è necessita comunque di investimenti in adeguate campagne informative e promozionali, di innovazioni nella produzione e di una maggiore adesione dei nuovi prodotti e confezionatori.